Erano le 23 passate di ieri notte quando un altro grave incidente è avvenuto lungo la circonvallazione di Taurianova, l'ennesimo dopo i precedenti, l'ultimo mortale lo scorso giugno, quando un motociclista è rimasto senza vita sul celciato. Nel violento impatto sono rimaste coinvolte tre autovetture, due Mercedes e una Fiat Bravo, sei le persone ferite nello scontro, quattro ragazzi taurianovesi e due di Cittanova. Si tratta di Ivan Sergi di Taurianova, di Michele Petullà di Taurianova, di Tonino Caccamo di Taurianova, di Umberto Morabito di Cittanova e di Davide Pisani, sempre di Cittanova, due ragazzi in grave condizioni, ma non sarebbero in pericolo di vita, solo qualche contusione per le altre persone. Ancora da stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, ma l'alta velocità sembra essere la causa principale dello scontro tra le tre autovetture. Sul posto sono intervenute due ambulanze, i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri. Tutte le operazioni sono state coordinate personalmente dal dirigente del commissariato di Taurianova, il dottor Antonio Gaetani.